Nel progetto Unita Borgas abbiamo avuto l'opportunità di accogliere studenti e studentesse, oltre che docenti di varie università e di varie lingue, tra cui la Sarland University, che è il nostro partner per l'organizzazione del BIP, con cui abbiamo avuto l'opportunità di discutere tematiche relative ai confini, tra cui tematiche di carattere ambientale, culturale, linguistica, sociale, politica, e i confini sono stati l'opportunità perfetta anche alla luce del carattere internazionale del BIP Unita Borgas. Sono davvero ravi di partecipare a questo BIP sulla tematica delle frontiere, questa tematica è particolarmente importante in questo momento, che vediamo il rinforzamento delle frontiere fisiche, con il rinforzamento delle frontiere e dei controlli migratoires. E ho trovato che il buto di questo programma è di cercare di cercare le frontiere, di cercare le frontiere tra le discipline, e di rinforzare gli studenti che vengono da tutte le frontiere in Europa e che hanno tutte le frontiere delle frontiere e che hanno tutte le frontiere molto diversi. Mi nome è Marius, sono studente della Master, della Università del Vese di Timișoara. Ho avuto l'opportunità di partecipare a questo programma BIP Borgas. È stato un'esperienza bellissima, con molti colegi di molte parti, di molte parti dell'Europa. Mi orgoglio che ho fatto parte di questo programma e mi consiglio a tutti di accedere queste opportunità. Mi nome è Maria Cucalon-Hernandez, vengo dalla Università di Zaragoza, ho avuto l'anno scorso l'anno e ho studiato il Master di Abogastia. Ho deciso di scoprire Unita Borgas, perché ho studiato un diploma in migrazione e questo interdisciplinario sembra un'opzione molto interessante per la mia formazione. Ho conosciuto gente superinteresante, la qualità dei nostri studenti era eccellente e ho consiglio a tutti quelli che scegliere a questa esperienza del Plendid Programme che le faccio un'opportunità a Unita, perché merece la pena totalmente.